Le nuove suggestive immagini dei lavori per il nuovo waterfront di Levante di Renzo Piano in corso alla Fiera di Genova, un'opera che cambierà profondamente il profilo di Genova come già accade col porto antico. L'avanzamento di quest'opera è protagonista del video a cura di Bruno Ravera, Jacopo Baccani e Gabriele Pecoraro della Drone Genova, riprese anche aeree delle tappe salienti tra settembre 2019 e settembre 2020 dalla demolizione dell'edificio Ex Anseldo Lanira per la realizzazione dell'imbocco del nuovo canale navigabile all'interno dell'area Fiera.